241 lavoratori della Microno saranno assunti dall'ST Macro Electronics. Ne restano fuori 4 che per una ditta esterna forniscono servizi di consulenza informatica e che negli anni hanno lavorato per l'azienda statunitense. Resta la grande amarezza per il fatto che un'azienda così importante abbandoni il territorio. Tanto vero che il nostro territorio, la nostra regione, perde un iniziamento industriale di assoluto valore, di assoluta importanza, di una multinazionale l'ennesima che va via dalla Sicilia. È chiaro che questa operazione è l'epilogo di una serie di interventi al giudizio nostro sbagliati sin dall'inizio, sin da dieci anni fa, quando ci fu il primo scorporo delle memorie da parte di ST che in qualche modo ha visto che deve operare risorse nel corso degli anni. Come dicevamo, la nota positiva è che grazie all'intervento, e dobbiamo dirlo questa volta, massiccio da parte delle istituzioni, in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico, si è riusciti assieme a trovare una situazione non traumatica per tutti che prevederà diverse tipologie di stabilizzazione, perché in parte tutti possiamo andare in ST microelettronale, quindi tutte 241 persone. Ci saranno altre persone alle quali le verrà, come dire, sottoposta a altri tipi di proposte, come per esempio rimanere in orbita Micron, Manona, Catania, in altri territori italiani e continentali, così come verranno offerte degli incentivi all'esodo per chi volesse, come dire, indipendere una professione diversa da quella che ho fatto fino ad oggi.